La villa del pazzo, l'ultimo preziano. Ah, quella posta, la villa, quella... Mi piacerebbe, se ci sarà una posta di quella villa dove state sul centro della cassa di spagna, se non ci potrebbero... Io non ho mai capito perché era la villa. Io non sono mai andato dentro, però forse è probabile che è Rosanna. C'è quella che c'è la ballena che sparassi, è vicinato. Sì, sì, grazie.